Abbiamo visto che il cambiamento della temperatura media del pianeta con i conseguenti effetti di cambiamento climatico sono dovuti all'aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera e pertanto il riscaldamento globale è dovuto all'intervento antropico. Ci sono molti altri studi che sono in corso per migliorare le conoscenze scientifiche sui meccanismi che controllano il clima, finalizzati a una migliore previsione di quelli che sono gli effetti che ci dobbiamo aspettare in futuro e questa previsione attualmente è limitata da alcune proprietà del sistema atmosferico che non sono sufficientemente caratterizzate e ultimamente l'Agenzia Spaziale Europea ha deciso di costruire un nuovo satellite che si chiama Forum che sarà lanciato nel 2026 come nono satellite della serie degli Explorer per andare a caratterizzare i meccanismi con cui l'atmosfera si raffredda e capire meglio quali sono i processi climatici che andranno a determinare la temperatura del pianeta in futuro. L'intervento per limitare i cambiamenti futuri del clima richiede un consenso internazionale che è stato ottenuto in passato nel caso del buco dell'ozono e per cui le nazioni si sono messe d'accordo a limitare le emissioni con il risultato che adesso dopo 50 anni il problema del buco dell'ozono si è finalmente risolto e l'ozono stratosferico sta tornando lentamente ai suoi valori originali. Lo stesso consenso internazionale sarebbe opportuno ottenere anche nel caso del clima però in questo caso ci si scontra con i vincoli economici e gli egoismi nazionali che hanno finora impedito il raggiungimento di un accordo adeguato per limitare le emissioni di gas a serra.